Il buon Alessio Viola torna con 20-20, 20 anni del 2000 su TV8, notato lui stesso, il secondo volume è presto pronto in prima visione assoluta a partire dal 25 giugno 2021 che vi ricordo sarà domani venerdì. Ogni venerdì infatti in seconda serata ci sarà questo programma, l'obiettivo è quello sempre di andare a, diciamo così, intrattenersi ma al tempo stesso a riguardare tutti quei grandi eventi che dall'inizio di questo nuovo millennio e questa nuova era hanno letteralmente segnato un'epoca in piena regola. Andando a definire quelle che sono le sorti del futuro, gettando però anche un occhio sul presente, vedendo in maniera concreta e autentica nonché cristallina quelli che sono i fatti più importanti, i fatti essenziali che riguardano il nostro paese e non solo. Lui stesso si definisce come una sorta di vero e proprio quente in tarantino di questa emittente televisiva, ossia TV8 e c'è da giurarci che Alessio Viola fa sul serio. Complimenti dunque a lui, il video termine è qua, iscrivetevi al canale, tante novità in arrivo a partire da domani, 25 giugno 2021, iscrivetevi al canale e complimentate al suo io.